Ciao a tutti ragazzi sono Dr.Mirax e bentornati su SpazioGames.it con questo nuovo video dedicato a Call of Duty Black Ops 3 che finalmente è uscito, possiamo giocarci in questo momento e possiamo ovviamente esplorare tutte le modalità che il gioco ci permette di poter provare la campagna e multiplayer, però vorrei soffermarmi quest'oggi su una piccola curiosità che ho scoperto o che comunque si è già vista in giro su internet, sulla modalità Zombie Shadows of Evil voi direte ma cos'è che è appena uscito cosa hai già scoperto? Praticamente si scopre una sorta di piccolo, non è proprio un easter egg però un piccolo mistero nel quale possiamo raggiungere round facili e ottenere punti esperienza praticamente gratis diciamo così, praticamente punti esperienza senza fare nulla di così tremendamente difficile ovviamente Shadows of Evil come sapete è una mappa molto ampia e articolata però questo piccolo diciamo metodo può essere fatto semplicemente all'inizio del gioco appena cominciate la partita sarà una cosa veramente molto molto rapida e molto molto veloce ovviamente in questo caso vi ho messo anche il video anteprima del gioco della modalità perché era la prima volta che avviavo e possiamo vedere che appena partiamo dobbiamo subito sparare a questo tizio che vedete in alto e questo tizio in alto praticamente dovrebbe essere l'uomo delle ombre che è ovviamente la base di tutta la storia però se vedete continuando a sparare aumentate il round cioè voi arriverete tranquillamente ad arrivare a round 15 senza aver praticamente mosso un passo al di fuori della zona iniziale e questa cosa è veramente curiosa perché intanto che voi continuate a sparare aumentate i round arrivando fino ai 15 perché poi dopo scompare vi troverete senza armi cioè praticamente avete semplicemente le pistole che avete usato prima quindi il pistola revolver e la pistola a raffica in questo caso ovviamente dovrete cercare di arrangiarvi perché comunque i punti ve ne dà in totale ve ne dà una volta che finirete questo piccolo glitch 16.500 e ovviamente potete aprire porte, acquistare armi e quant'altro quindi nulla ragazzi un video veramente veloce se volete cominciare già dai round velocissimi a round 15 in su fate questo piccolo glitch oppure se volete dal 5 o dal 10 fate questo piccolo easter egg, questo piccolo glitch non so anche come definirlo con precisione dicevo questo è tutto e noi ci vediamo con un passo video qui su spaziogames.it ciao a tutti